Uno dei volti nuovi del Pescara, Matteo Saccani dalla Vispesaro al Pescara, siamo sempre sulle rive dell'Adriatico, insomma per te questa però è un'occasione importante in una squadra che negli ultimi anni ha fatto tanta serie B e anche serie A? Sì, cerchiamo di aumentare sempre di più il livello, di alzare sempre la sticella, di puntare sempre più in alto, è una bella sfida e sono contento di iniziare qua a Pescara. Come ti sei trovato, come ti stai trovando in questo nuovo ambiente con i nuovi compagni e con il tecnico Colombo? Durante il ritiro ho avuto il piacere di conoscere tutti i compagni e il mister, per ora tutto bene, il gruppo è un bel gruppo, siamo giovani, ci stiamo legando e con il mister inizia ad esserci un bel rapporto e lavoriamo bene dai. L'obiettivo di Matteo è quello di fare bene in questo campionato, l'obiettivo del Pescara è di provare a fare la voce grossa invece? L'obiettivo di Matteo è di fare meglio dell'anno scorso, ogni anno di migliorarsi e lavorare, l'obiettivo del Pescara è un obiettivo importante, sono felice di poter dare una mano. Arrivi in una piazza esigente con una tifoseria che si aspetta sempre il massimo, una tifoseria che vuole, quest'anno vorrebbe vedere una squadra primeggiare. Insomma ci saranno tante difficoltà, ci saranno anche dei momenti difficili, ma il Pescara ha le carte in regola per poter puntare al massimo secondo te? Sicuramente, sicuramente, la piazza è diversa da quella dell'anno scorso, l'anno scorso era una piazza minore, le difficoltà erano meno evidenti, quest'anno la sfida si alza, è sempre più alta, però la prendiamo seriamente e cercare di fare sempre il meglio. Per chiudere, Matteo Saccani vuole essere protagonista e possibilmente titolare di questo Pescara? Ci si prova, si lavora sempre, poi dopo il mister farà le sue scelte, l'obiettivo è quello, poi vedremo come si svolgerà l'anno.